Sistema Emergenza Urgenza 118, Ferrari, ancora fermo il nuovo accordo integrativo regionale. E' notizia di oggi che in attesa che Azienda Zero entra in piena attività all'ASP di Cosenza, è stata affidata la gestione dell'Emergenza Urgenza Territoriale 118 per la procedura di selezione del personale. Quale personale? I medici convenzionati? E' quanto afferma il dottor Saverio Ferrari, referente provinciale per l'ASP di Catanzaro, dello SMI, sindacato medici italiani. Ricordiamo al presidente commissario Occhiuto, aggiunge Ferrari, che dopo 18 mesi di sua gestione, nulla si sa riguardo alla stipula del nuovo AIR, l'accordo integrativo regionale fermo al 2009. O meglio, è stata preparata una bozza, a nostro avviso, assolutamente insufficiente, a rendere appetibile il servizio, di cui peraltro non si sa più nulla. Quindi, quale personale medico si vorrebbe reclutare? Forse i colleghi cubani? Gli italiani sono anni che non si presentano nel momento in cui vengono bandite le zone carenti. Ripeto e sottolineo anni. Alla carenza gravissima e ormai cronica di medici, aggiungiamo la carenza, almeno nell'ASP di Catanzaro, di autisti ridotti numericamente all'omicino. Allora, la domanda che pone il sindacato medici italiani è la seguente. Come pensa il presidente commissario Occhiuto di affrontare il periodo estivo quando la popolazione, bisogna di buona sanità, aumenterà in maniera cospicua? Ci attendiamo possibilmente, conclude Ferrari, una risposta e non annunci roboanti che lasciano il tempo che trovano.